Bene, benissimo, complimenti a questi ragazzi. Allora, le province, il Presidente Schifani si era preso questo compito e lo sta portando avanti. A me fa piacere, apprezzamento perché ha incontrato i sindacati, le forze politiche, tutto durante l'incontro, l'assessore Mezzina ha illustrato i contenuti di questo decreto legge ispirato ai principi della Carta Europea. Però purtroppo, ma loro dicono che è una stupidaggia e si fa subito, subito, senza problemi, purtroppo tutto questo è subordinato alla cancellazione, all'abrogazione, il termine esatto, della legge del Rio, che mai legge fu così scummenata, o meglio, è una legge scummenata che solo noi abbiamo approvato, abbiamo poi portato avanti, perché nelle altre regioni d'Italia si vota regolarmente per le province, le province funzionano, solo i babbi siciliani e questo dobbiamo dare atto, in questo caso è un atto negativo, prima a Lombardo e poi al buon Presidente Crocetta che quel giorno si fece prendere dalla foga e andò a chiudere le province come ha fatto, che è una cosa sbagliatissima. Comunque c'è questo percorso condiviso nell'interesse del territorio, ma sono d'accordo, ma se non si cancella la legge del Rio, purtroppo non funziona niente. Andiamo a parlare della politica nelle elezioni di fine maggio. Allora si stanno completando, ora c'è Sinistra Italiana che scrive, sabato ci sarà Giorgio Massari che apre la sua sede, la sede proprio a due passi dal comune, così fa casa e putia, perché è in Piazza Posta praticamente, così è Piazza Matteotti. Allora si stanno organizzando, si stanno facendo le liste e una cosa molto importante per esempio nelle liste del Sindaco e quella di Cassi Sindaco è che ci sono molti nomi di assessori e che ora dovranno far vedere quanto valgono. Qui si varrà la valitudine, il valore di tante persone, quindi è una cosa interessante. Noi abbiamo oggi un ospite che rappresenta una lista anziana, dobbiamo dire, perché la lista partecipiamo e nella doppia veste abbiamo Giovanni Iacolo. Vediamo.